Ciao ragazzi e bentornati sul canale più eliminato del momento, le rivelazioni calcistiche di Lorenzo Cantarini Allora, come vedete oggi abbiamo un po' cambiato i dispositivi di ripresa Perché? Perché ancora qualcuno di voi si lamenta del fatto che soprattutto su smartphone L'audio della telecamera è un pochino scarso Perché oggi riproviamo ad utilizzare il microfono che uso invece per le live Dove dite che sentite meglio e speriamo vada tutto un po' meglio Perché è il canale più eliminato? Perché mi hanno rieliminato il video di ieri, quello contro la Lega Calcio La Lega Calcio proprio, media Lega, bla 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 Loro hanno proprio deciso di eliminarvi il video, posso fare contestazione ma non me ne frega niente Però la guerra è appena iniziata Benissimo ragazzi, oggi andiamo a parlare come promesso del Brescia di Fabio Grosso E dell'Udinese di Gotti Al momento sembra Gotti l'allenatore designato almeno per la prossima partita Poi l'Udinese vedrà durante la sosta se sostituirlo o meno Intanto Gotti ha detto che lui non vuole continuare a fare l'allenatore Vuole ritornare a fare il vice Ma ovviamente un risultato positivo dell'Udinese con la SPAL Tra l'altro è anche una partita abbastanza semplice Chissà, forse gli farà cambiare idea Dai ragazzi, prima di iniziare come al solito vi ricordo Iscrivetevi al canale YouTube qualora non l'aveste ancora fatto Iscrivetevi al canale Instagram perché già stamattina ho postato quella chicca Della colazione con le formazioni della gazzetta del Brescia Per cui magari ci sono anche delle chicche che non posto qui su YouTube E poi vi ricordo Hashtag nazionale YouTubers Permettetemi di realizzare questo sogno Ma non ve ne frega niente nessuno Però col microfono non riesco a aggredire la telecamera Quindi adesso devo trovare il modo di aggredire la telecamera Aggredirò il microfono E vi ricordo Hashtag FantaFlash E ragazzi è tutto pronto Ultima settimana di test E poi dalla settimana prossima partiamo Vi farò una testa, diciamo così Con il FantaFlash Perché dovete partecipare veramente tutti Dai, iniziamo, iniziamo, iniziamo Andiamo subito a vedere Allora Iniziamo con il Brescia di Fabio Grosso Allora, Fabio Grosso Di cui abbiamo un breve storico Perché? Perché lui, nelle ultime due stagioni Ha allenato in Serie B Prima al Bari e poi al Verona Per cui abbiamo delle squadre Che già Fabio Grosso ha plasmato Già sappiamo un po' come allena Andremo a vedere quello che dice la Gazzetta Che secondo me è sbagliato Innanzitutto andiamo un po' a vedere Qualche statistica interessante di Fabio Grosso Con il Bari Che fece 59 gol Quella stagione ne subì 48 Quindi, vedete, non fa moltissimi gol In Serie B se ne fanno tanti Ma ne prende più di una partita E con il Verona Fece 49 gol E ne subì 46 Anche qua Più di un gol a partita subito Più di un gol a partita fatto Siamo sempre lì lì Col Verona E poi venne esonerato Quattro partite Prima della fine del campionato Perché era ridosso dei playoff La società voleva di più Poi alla fine Effettivamente Il Verona è stato promosso Andiamo a vedere Quindi un po' come giocava Questo Verona Di Fabio Grosso E andiamo a prendere La partita emblematica Quella che il presidente Cellino Ha detto Quella partita appunto Brescia-Verona In cui il presidente Cellino Disse di essere rimasto Estasiato Dal gioco di Fabio Grosso E Grosso schierò Questa formazione qua Come vedete Difesa a quattro Poi una cosa interessante Era il centro campo Perché? Perché ho visto Anche altre partite di Fabio Grosso Utilizzava Faraoni Da mezzala Faraoni che è propriamente Un esterno alla Florenza Un esterno da 3-5-2 Faraoni che poi Quando il Verona Attaccava Aveva questa situazione qua Cioè 4-2-3-1 Oppure 4-2-4 Oppure 4-2 E fantasia Mettetela come vi pare Comunque sia Con la mezzala appunto L'esterno adattato Mezzala che si allargava E l'esterno Che in questo caso Era lì Che andava a fare La seconda punta Ed era un calcio Come diceva il presidente Cellino Spumeggiante Spumeggiante Per cui Andiamo un po' A vedere come potrebbe essere Il Brescia Di Fabio Grosso Questa qua È la foto di questa mattina Che ho messo su Instagram Della mia colazione Al bar Con la gazzetta Perché se posto La foto della gazzetta Poi arriva la gazzetta Che per copyright Mi fa Mi cancella il video Come fa la lega calcio Allora Andiamo a zoomare Questa pagina In modo che Mi dicono Tu hai postato la gazzetta Allora Dico Ho postato la colazione Guardate tra l'altro La bella pasta veneziana Che fa Venire veramente Voglia di andare a fare colazione Anche dopo pranzo Ecco Dopo mi dite Che sono Lo youtuber Quello grasso Allora La gazzetta Propone il 4312 Con difesa Sabelli Cissana C'è sempre Stinomi Che non li becco C'è allora Martella Bisoli Tonari Andoi Con Romulo Che va a fare il trequartista Dietro Balotelli E Torregrossa Oppure il 4-2-3-1 Che magari Secondo me È più simile Al modo di giocare Di Fabio Rosso Con difesa Sempre quella Con Mateio Il posto di martella Per far vedere Il ballottaggio Che lì effettivamente c'è Doi e Tonali A centrocampo Poi Bisoli A fare Un ipotetico Esterno destro Bo Torregrossa Che fa il trequartista Bo E Romulo Che fa l'esterno sinistro Bo Chissà Questa è proprio la gazzetta Preso dei nomi La tirati così La sparsi In quel campo E poi Balotelli Prima punta Una cosa interessante Però che condivido È Donnarumma Dov'è Donnarumma In queste formazioni? È grosso Secondo me Non giocherà Con due prime punte Come Balotelli E Donnarumma Questo Sono d'accordo Le cose sono d'accordo Con la gazzetta Infatti Secondo me La formazione Sarà invece questa Ioran In Porto Ovviamente Sabelli Cistana Cancellar E Martella Sansegior Tonali A fare regista Con Romulo E Bisoli Romulo A fare quello Che faceva Faraoni Nel Verona Ok Con Aie Aie che potrebbe Riscoprirsi Una splendida Alla destra Torregrossa A sinistra E Balotelli Prima punta Che in fase d'attacco Si svilupperà così Con il 4-2 E Romulo A fare l'esterno destro Aie a fare Il trequartista Che già l'ha fatto Torregrossa A sinistra E Balotelli Prima punta Anche Spalek Potrebbe essere utilizzato Al posto di Aie Perché anche Spalek Può giocare tranquillamente Trequartista Oppure esterno Di destra In questo caso Sarebbe una formazione Un pochino Più difensiva Vogliamo farla Ancora più difensiva Potremmo mettere Il centrocampo A tre Doitonale Due fonti Due fonti Magari due interpretazioni Diverse Ma che portano Alla stessa soluzione Per cui ragazzi Attenzione Con Donna Roma Se potete scambiarlo Qualcuno La vostra lega Che non guarda I miei video Perché Mi sponsorizzate mai Perché vi tenete Tutto quanto Il mio canale Per voi Fatelo Ok E poi Aie E Torregrossa Saranno titolari Torregrossa Credo assolutamente Sì Sta rientrando alle infortune L'anno scorso È stato importantissimo Per il Brescia In serie B Per cui Per me Ha tutte le caratteristiche Per giocare titolare Anche da adesso in poi Soprattutto con Grosso Che utilizza un giocatore Di quelle caratteristiche Andiamo ora A vedere Luca Gotti L'udinese Di Luca Gotti Allora Di Luca Gotti Invece Abbiamo un pochino Meno Informazioni In quanto Luca Gotti È stato uno storico Vice allenatore Soprattutto di Donadoni Al Cagliari Al Bologna Al Parma E poi Al Chelsea Con Maurizio Sarri E poi Vice all'udinese Con Tudor Tre allenatori Che interpretano il calcio In maniera totalmente differente Per cui Inutile andare a prendere Le sue esperienze Vice allenatore Perché veramente Sono tre esperienze Assolutamente Agli antipodi Di Luca Gotti Invece Pochi sanno Che invece è stato Primo allenatore Anche dove A Treviso E alla Triestina A Treviso Se lo ricordano ovviamente Solo quelli di Treviso E poi quelli della Roma Infatti me lo ricordavo Perché Perché Al Treviso Fu esonerato E fu sostituito Da Abel Balbo Che era Il mio idolo Il mio idolo di gioventù Storico Centravanti Della Roma Negli anni 90 Alla prima esperienza Da allenatore Poi A quel Treviso Che poi fallì Balbo Che si dimise Dopo quattro sconfitte Quattro partite Quattro sconfitte Perché disse Qua non c'è una società Non c'è niente Denunciò Uno dei primi casi Di società Che poi si sfaldò E fallì E poi Gotti andò Alla Triestina Ma la Triestina Allenò solo per otto gare Perché poi dopo quattro sconfitte consecutive Venne esonerato E sostituito da Mario Somma Quindi Però inutile andare a riguardare Le formazioni di dieci anni fa Ha avuto poi Come dicevo prima Tantissime esperienze Per cui però ci potremmo basare Sulla formazione Che ha schierato Domenica Nella vittoriosa trasferta Di Genova Con Musso De Maillot E Kong E Nuitink Difesa 3 Ha riscoperto Nuitink Ne parleremo Poi centrocampo a 5 Cono poco Wallace Mandragora Semà E De Paul Che va a fare il trequartista Quindi un 3-5-2 Che potremmo dire Un 3-4-1-2 Con attacco Kaka e Nestorowski Le due punte pesanti Basiamoci Su questa formazione Per cui Cosa possiamo dire Di questa formazione Per quanto riguarda Il nostro fantacalcio Uno Importante Il ritorno di Nuitink Che è un difensore Goliador Per cui se avete Il mercato aperto Andate subito Subito A cicciare Nuitink Vi potrebbe fare Molto comodo Io ce l'ho avuto per anni Ma ha fatto sempre stare bene Nuitink Un 6 fisso Con ogni tanto Qualche assist Qualche gol Quindi prendetelo Samir e Fofanavan In panchina Ragazzi al momento L'indicazione Sembra quella E poi De Paul Giocherà più avanzato Per cui ovviamente Porterà più bonus E Allora Ora però Vale la pena Andare a prendere Giocatori Per queste indicazioni Di Luca Gotti Che ha già detto Che dopo la sosta Non sarà l'allenatore Dell'Udinese Ragazzi Questo Stontenna All'8 Perché 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 La società I tifosi Giocatori Vogliono Luca Gotti Allenatore Anche dopo la sosta L'Udinese Alla partita in casa Con la Spal Che Capite Che non è proprio Il top Della difficoltà La Spal Che ieri sera Sinceramente Non l'ho vista Con la Sampdoria Ma ho visto Un po' Il resoconto Gli Elites Non è che abbia fatto Tutta sta gran partita Ci può stare Una seconda vittoria L'Udinese Per cui Gotti Farebbe 2 su 2 In quel caso lì Credo che ci sarà Talmente tanta voglia Della piazza Dei giocatori Tra l'altro Che già Nuitink stesso Ha detto Che aveva litigato Con Tutor Non si trovava bene Anche gli stessi Mandragora Barak Hanno detto Che con Tutor C'erano problemi Pussetto Ha detto che con Tutor Avevano problemi Tutor che aveva Spaccato lo spogliatoio Gotti è riuscito Con una sola partita A ricompattarlo Credo che in caso Di vittoria con la spalla Sarà difficile Che Gotti Torni a fare Il secondo allenatore Magari si rigiocherà Quest'opportunità Di essere il primo Allenatore Dell'Udinese Bene ragazzi Questo è quanto Per quanto riguarda I due nuovi Allenatori Della serie A Veramente serie A Che vive di esoneri Quest'anno Veramente un campionato Molto strano E ovviamente Ragazzi Vi ricordo L'appuntamento di domani Con la regola Del 72 La regola Che vi permetterà Di vincere anche Quelle partite Che nascono Sfortunate A fantacancio O quantomeno A pareggiarle Lo scopriremo Come domani Poi ovviamente Se vi tolgono I gol a Piontek E non danno I rigori a Belotti Poi potete fare La regola del 72 Del 66 Del 59 Del 3000 Ma ve la prendete Sempre nel sacco Come l'ho presa Io questa settimana Beh ragazzi Detto questo Vi ricordo Iscrivetevi al canale Corrano Non lo avete ancora fatto Iscrivetevi al canale E Instagram Mettete un like Se vi è piaciuto Questo video Perché vedere Tanti like Fa sempre molto piacere Vi ricordo Hashtag Nazionale Youtubers Hashtag Fanta Flash Stiamo Per arrivare Un saluto Dal secondo divano Più famoso Del web E se hai capito La battuta Sei uno tozzone